Il Partito Democratico Messinesi è al fianco dei lavoratori di Unicredit che lunedì 29 luglio sciopereranno per l'intera giornata, dopo che l'azienda, con una netta chiusura alle stanze dei lavoratori, ha vanificato il tentativo di conciliazione dello scorso 15 luglio a Milano con i segretari provinciali di Fabi, CGL, FIBA e Sinfub. Già lo scorso 5 luglio l'Assemblea dei Lavoratori Messinesi, con voto unanime, aveva proclamato una giornata di sciopero, prosegue la nota del PD, per denunciare la grave carenza degli organici con le urgenzie ormai al collasso, la sicurezza sul posto di lavoro, la mancata fruizione di ferie, la carente, formazione del personale. L'azienda immagina di far fronte a queste carenze ricorrendo a forme di precariato che non giovano certo ad una regione dove la vera avvertenza è quella della carenza di un'occupazione stabile, specie feri giovani. Il tutto mentre in questi giorni trapelano indiscrezioni di stampa, non smentite dall'azienda, di tagli di 10.000 posti di lavoro sul perimetro Unicredit Italia. Su questo punto il deputato regionale del PD Franco De Domenico ha presentato un'interrogazione urgente all'assessore regionale della famiglia e delle politiche del lavoro Antonio Scavone per sapere come si vuole muovere la regione in questa vertenza, garantendo condizioni di lavoro accettabili ed incrementare l'occupazione stabile in Sicilia, contrastando con determinazione la deriva occupazionale anche nel settore bancario che privilegia forme di precariato.